Aiuto! Aiuto! E io ti aiuterò con quella maschera! E io ti aiuto! Wow, grazie. Ti devo un favore. Dai, accellaccio, aiutami a togliere questa maschera. Niente da fare, bello. Dovrai fare un salto al monastero di Enrotha. Ma che dia... Carlin ha promesso di aiutarti, non di toglierti la maschera. Ah sì, e come ci arrivo al monastero, Carlin? Prendi il sentiero attraverso il C-A-N-Y-O-N. Canyon, perché lo pronunci in quel modo? È pieno di succhi a sangue. P-I-P-I-S. Pipistrelli, che schifo. Sempre meglio della P-A-L-U-D-E, o no? Come mai? Per via dei pitoni. Non ci sarebbe un'altra strada più sicura? No, e sbrigati che è quasi buio. E i pipistrelli adorano l'oscurità. Pipistrelli, perché proprio a me? I'wige buio. I'wige buio. Un cartace povo. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.